Allora, permesso che non lo so, credo che forse un'idea che mi viene in mente se penso alla convivenza è che nell'altro, un altro che magari non conosciamo, che viene da un altro paese con lingue, culture, esperienze diverse, ci siamo noi e come noi siamo nell'altro, l'altro è in noi, quindi c'è quest'idea in qualche modo di riconoscersi e di accettarsi, al di là di quelle che possono essere barriere geografiche, linguistiche, forse questo è il mattone, la pietra d'angolo dove poi si costruisce la convivenza.